Poracci, bentornati o benvenuti sul Porocast, l'unico podcast di internet.poro dove parlo di videogiochi e non solo. Siamo arrivati al terzo episodio e questa puntata sarà un po' particolare perché metteremo un po' da parte l'attualità videoludica per concentrarci un po' di più su quelli che sono stati i miei ultimi sforzi nella settimana appena passata e anche su come verranno gestiti gli upload sul canale nei prossimi giorni anche perché ci stiamo avvicinando alla Games Week e io potrò postare pochissimo quindi ci sarà insomma una sorta di breve assenza e questo podcast serve soprattutto a colmare questo gap dove pubblicherò pochissimo ma comunque voi seguitemi su Instagram per rimanere aggiornati sempre e comunque su ogni mia posizione. Detto questo direi sigla e poi iniziamo! Allora la scorsa settimana è stata una settimana abbastanza piena, piena di cose da fare e piena di soddisfazioni in particolare ormai lo sapete benissimo c'è stato il mio compleanno che è accaduto di domenica è stata una giornata proprio distruttiva dove non sono stato fermo un attimo la mattina ho corso una gara, una 21 km e sono anche molto fiero di come sono riuscito a chiuderla in meno di un'ora e 35 minuti quindi con un ritmo medio di 4,30 km al chilometro anche qualcosina di meno ve lo dico perché ho visto che su Instagram c'è stato molto interesse rispetto a questa mia attività da podista ed è una cosa che comunque diciamo occupa quel pochissimo tempo libero che mi rimane è occupato dall'allenamento e mi divido insomma tra allenamenti mattutini e videogiochi e lavoro da casa al computer quindi è una parte abbastanza importante della mia quotidianità e di cui vado poi super fiero non è chiaramente un risultato da professionista ma direi che è un risultato da po' professionista e di questo sono felicissimo detto questo neanche il tempo di mangiare infatti non sono riuscito a pranzare e poi sono andato subito al Toissimi che era questa fiera del giocattolo vintage e del retro gaming dove ho passato tutto il pomeriggio fino alle 5, 5 e mezza e ho girato in lungo e in largo accompagnato da Shigeru Kachoppo nel tentativo di trovare qualcosa che potesse essere il mio regalo di compleanno e anche un po' regalo di Natale e come avete visto nel video di ieri ormai credo in realtà sto registrando in notturna il video l'ho appena pubblicato però probabilmente sarà già passato un giorno tra la pubblicazione del video acquisti e questo podcast insomma ci sono stati degli acquisti interessanti ma in realtà di roba super figa per quanto riguarda il collezionismo ne ho vista tantissima ci sono state un po' di cose che mi sarebbe piaciuto acquistare ma che purtroppo mi sono lasciato sfuggire e devo dire non pensavo ovviamente la fiera era più indirizzata verso il giocattolo vintage era molto ampia, c'erano molti espositori per quanti erano erano anche tutti molto compressi ma diciamo che in ambito retro gaming veniva occupato forse il 30-40% degli stand quindi non era principalmente una fiera dedicata al retro gaming però comunque ci stava un botto di roba e due o tre cose erano proprio proprio interessanti ho visto, tra l'altro c'era tantissima roba giapponese tenuta benissimo non solo dal venditore da cui ho acquistato il Super Famicom che tra l'altro aveva forse lo stand più bello di tutti aveva, vi faccio qualche nome aveva ad esempio un Super Metroid che ha venduto a un tizio che stava davanti a me ma aveva anche i due Metroid per Game Boy Advance in versione giapponese non li avevo mai visti tenuti da Dio li vendeva in bundle a un 300 euro in totale se non ce li avessi avuti già pal probabilmente avrei vacillato un pochino però non era il caso però dei pezzi molto interessanti e la cosa forse più bella che aveva nella vetrina di esposizione dietro uno scaffale dietro dove c'erano i veri pezzi da 90 c'era un Super Famicom Junior che non avevo mai visto dal vivo anche quello veniva venduto intorno ai 300 euro prezzo abbastanza in linea con le sue quotazioni di mercato ed è sostanzialmente l'ultima revisione del Super Famicom che arrivò più o meno alla fine del suo ciclo vitale una cosa del genere se non sbaglio uscì anche in Nord America da noi invece non arrivò mai e guardatevi le foto cercatelo perché a livello di design e proprio di revisione esteticamente è proprio particolare è ancora più arrotondato rispetto alle forme già rotondose in termine tecnico del Super Nintendo e del Super Famicom e non lo so mi ha fatto un po' impressione vederlo dal vivo un pezzo molto esotico ecco e insomma c'erano un bel po' di cose già ho visto anche dei bundle ad esempio i primi tre Mario Party per Nintendo 64 tenuti da paura benissimo venivano venduti insieme a una sessantina di euro pure quelli li stavo per prendere però ho pensato ma dai quando mai giocherai un Mario Party in giapponese però quelle custodie sono così belle esteticamente che qua si viene voglia di prenderle solo per metterle in esposizione all'interno di un qualche scaffale perché è proprio bello vedere le custodie Nintendo cartonate vecchio stile soprattutto quelle giapponesi coloratissime non c'è niente da fare e già lì ti conquistano poi se sono vendute a prezzi così competitivi non è affatto male in generale però i prezzi ormai sono diventati quelli che sono diventati sono altissimi mi ha fatto un po' impressione però parlare con un ragazzo che aveva due Game Boy boxati esposti sempre anche lui come un po' come pezzi pezzi da 90 all'interno del suo stand ed erano un Game Boy primo modello e un Game Boy non mi ricordo se color o comunque sempre un Game Boy primo modello ma non prima stampa e quindi era effettivamente brandizzato jig con tutte le scritte in italiano e mi ha confermato un po' quello che ormai penso da diversi anni io gli ho fatto ammazza sono dei bei pezzi e lui mi ha fatto sì sono belli ma non ballano perché questa roba è difficilissima da vendere però oggettivamente anzi obiettivamente ma chi è che al giorno d'oggi è disposto a spendere 400 euro per un Game Boy probabilmente chi cerca il Game Boy primo modello boxato tenuto benissimo eccetera eccetera si è già svegliato parecchio tempo fa e quelli che entrano adesso nel mercato insomma ci pensano bene prima di investire così 400 euro che iniziano a essere proprio proprio tanti 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 quindi io mi chiedo sì è vero i prezzi salgono in continuazione le valutazioni sono sempre più impressionanti ma si riesce veramente a vendere a parte quel 10% di superfacoltosi anzi diciamo teniamoci larghi 10% sì di superfacoltosi che buttano qualsiasi cifra possibile insomma hanno a disposizione budget illimitato ma il resto chi li compra si riescono a vendere ho molti dubbi ho molti dubbi però allo stesso tempo mi sono reso conto che nel momento in cui ci si addentra in un in delle fiere appunto più specializzate fatte da appassionati e non semplici rivenditori comunque c'è spazio ancora per le belle offerte per le folgurazioni per le contrattazioni per i colpi di fulmine ed è forse quella la cosa che mi piace di più in assoluto di queste di queste fiere in realtà la cosa che mi è piaciuta di più in assoluto è stata anche quella di incontrare tutti quelli che mi seguono da casa è sempre molto emozionante è sempre è proprio una cosa a cui non mi abituerò mai soprattutto poi iniziare ad associare a dei nick e dei volti anche quello è una cosa molto molto particolare ma soprattutto il sentirmi dire guardami mi tieni compagnia guarda ti metto in sottofondo sei diventato quasi una voce amica eccetera eccetera è una cosa che mi scrivete molto spesso nei commenti ma che poi mi ridite anche dal vivo non è che è imbarazzante è proprio io mi sento mi sento male ma in senso positivo ma mi rende mi rende super felice e proprio non ci farò mai l'abitudine e non mi sembra vero quindi non posso far altro che ringraziarvi per avermi scelto come compagnia dei vostri momenti morti quindi grazie mille non siate timidi sono molto più timido di voi probabilmente quindi se mi volete se mi beccate a queste fiere se mi beccate in giro venite pure tranquillamente a salutarmi perché a me fa super piacere e probabilmente tra i due quello più imbarazzato sarò io quindi non fatevi problemi a questo punto però vi parlo subito dei prossimi appuntamenti degli appuntamenti futuri perché questa settimana ci vedremo alla Games Week e ci sarò tutti e tre i giorni infatti partirò già giovedì partirò giovedì sera arriverò giovedì notte a Milano e così potrò farmi tutto venerdì in fiera tutto sabato in fiera e poi la domenica ci sarò probabilmente fino all'ora di pranzo o fino a mezzogiorno non lo so per poi scappare e riprendere il treno e tornare na capitale sarà quest'anno un bel banco di prova perché questo poi insomma si riflette un po' su come è andato quest'anno vorrei parlare anche di questo in questo podcast sarà un bel banco di prova perché in realtà è il terzo anno di fila che vengo parteciperò da da ospite no no da ospite proprio da pubblico alla alla Games Week allora il primo anno sono andato veramente come l'ultimo degli scappati ero riuscito addirittura a ottenere un pass stampa tramite Every Eye bellissimo per un giorno solo però però ero andato lì completamente spaisato completamente disperso non sapendo bene quello che stavo facendo qualcuno mi aveva riconosciuto insomma forse qualcuno mi ha addirittura fatto firmare un autografo una cosa stranissima proprio vabbè però ero stato veramente poco più che un che uno del pubblico pagante l'anno scorso invece le cose passato un anno si erano già modificate abbastanza perché ho trovato molto più riscontro da parte del del pubblico diciamo c'è stata molta più gente che è venuta a interagire con me e in generale ho avuto modo anche di interagire con un po' di di volti noti dell'industria tra virgolette del settore però insomma niente niente di che se non l'altro ho avuto la conferma che un po' nessuno guarda i miei video tra i tra i big ecco quest'anno invece le cose sono sono molto diverse e perché ci vado in parte anche come ospite sarò avrò accesso anche a un boot del del mio network di di grow up dove sarà possibile organizzare anche dei meet and greet dove ci saranno poi anche persone molto più conosciute molto più famose di me eccetera eccetera però in generale andrò lì anche e soprattutto innanzitutto spero di incontrarvi va bene ma anche per stringere un po' di di mani e parlare con con gente che lavora nel mondo di youtube con gente che lavora nel mondo dei pr dell'industria parlare con gente di nintendo e insomma sento che quest'anno è proprio cambiata la percezione dei miei confronti da parte del del mondo dell'informazione videoludica se lo possiamo definire così mi sembra di non essere più un nel totale anonimato ma di iniziare a essere non dico un volto riconosciuto ma qualcuno a cui si può guardare si possono chiedere cose si può fare riferimento eccetera eccetera anche perché questo poi ne parlerò bene in un video di fine anno dove voglio un po' riassumere la mia avventura su youtube in quest'ultimo anno ecco penso veramente che il più grande traguardo di quest'anno io pensavo sarebbe stato un bell'anno non pensavo sarebbe stato così bello però mi ha sorpreso mi ha sorpreso perché non è stato tanto un anno dove ci sono state soddisfazioni in termini di numeri o di guadagni soprattutto di guadagni perché comunque la crescita è stata non è mai stata esponenziale è sempre costante più o meno allo stesso modo e non è cauto di numeri incredibili di visualizzazioni o di crescita certo gli shorts esplodono ma gli shorts poi non creano il pubblico che mi interessa attirare creano un pubblico distratto un pubblico che non si affeziona che ti dà tantissime visualizzazioni sul momento ma poi è più difficile da fidelizzare le persone che mi interessa incrociare il mio percorso su youtube sono le stesse che stanno ascoltando questo podcast adesso e sono arrivate fino a questo momento proprio tu si sto parlando proprio con te grazie mille grazie mille per non aver ancora chiuso e quello diciamo è stato un tipo di crescita costante quello che effettivamente è cambiato rispetto all'ultimo anno ma in generale rispetto a tutto quello che ho sempre fatto qua su youtube è che adesso inizio a avere dei contatti con pr publisher nintendo al di là del fatto che mi inviano i giochi che comunque è una grandissima soddisfazione il traguardo è sapere che i tizi di nintendo italia in un modo o nell'altro sanno chi sono guardano i miei video c'è una sorta di feedback del mio lavoro e questo forse è il traguardo più importante e potrebbe anche essere una sorta di porta di accesso a tutto quello che voglio fare in futuro e a una possibile crescita sempre in quest'ambito vorrei continuare a muovermi in questo modo creare una sorta di figura ibrida a metà tra l'influencer e il giornalista però che non si espone in nessuna dei due estremi ma rimane semplicemente un appassionato che parla di videogiochi con competenza ma con nessuna pretesa di autorevolezza ecco io voglio continuare a fare video divertendomi informando dando degli spaccati della storia dei videogiochi e anche del presente ma senza mai salire in cattedra o considerare la mia opinione più valida di quella di altri no il mio punto di vista deve essere sempre quello di un appassionato che trasmette la sua passione con tutte le sue imperfezioni e che riesce in questo modo a catturare altre persone e a coinvolgerle in quelle che è un passatempo assurdo un passatempo che diventa un po' una ragione di vita ma che rimane comunque una cosa piacevole ma deve rimanere quello e non voglio mai farla diventare una cosa che va presa troppo seriamente ma nel senso che poi mi fa pensare di essere una persona più importante di quello che sono questo è un po' un discorso strano un po' astratto però non non voglio diventare né un guru né un professore voglio rimanere un appassionato ma non voglio neanche sembrare un cazzone che ha più di x anni gira a vuoto intorno a un qualcosa che non che poi non si concretizza mai però dico ormai il mio ritmo ce l'ho la crescita esponenziale non ci sarà mai se anche dovesse fermarsi tutto così adesso come si è fermato ho raggiunto i traguardi impensabili la gente pensa che io sia diventato miliardario perché nintendo mi invia i giochi quindi direi che la mia missione è qua su internet è finita e anche se finisse adesso sarebbe stata comunque una grandissima soddisfazione quindi di nuovo vi ringrazio tantissimo a tutti quanti per aver fatto sì che guardando i miei video dandomi sempre un caloroso feedback da appassionati ma anche poi partecipando alle discussioni magari non sempre in accordo con quello che dicevo va benissimo mi avete permesso appunto di crescere a livello di riconoscibilità e questo forse al giorno d'oggi è il traguardo più importante e che appunto apre di più delle porte di accesso a quello che è il quest'ambito lavorativo quindi detto questo ci vediamo spero alla Games Week e volevo farvi un attimo anche un po' di riassunti su quelle che sono state le mie giocate in queste due settimane e oltre perché insomma mi sto mi sto concentrando nel giocare il più possibile e c'è stato un periodo della mia vita negli ultimi anni dove il giocare era comunque subordinato alla creazione di contenuto su youtube adesso invece sto cercando di farli andare di pari passo rallentando un po' la creazione su youtube ma aumentando poi quello che è il videogiocare e devo dire questo è un argomento che purtroppo farà incazzare tantissimi di voi io penso che Tears of the Kingdom non sia più il mio goti 2023 perché Alan Wake 2 l'ha spodestato alla grandissima state tranquilli state calmi ora mi spiego meglio penso veramente che Tears of the Kingdom sia un gioco generazionale sia un gioco praticamente perfetto nella sua imperfezione e che abbia raggiunto dei traguardi impensabili di game design e ci sono diecimila discorsi da fare dietro proprio sul suo concepimento sulla sua perfezione su quanto pur essendo un seguito riesce a essere qualcosa di completamente diverso da Breath of the Wild e su come venga messo tramite Tears of the Kingdom un punto su tutta l'evoluzione videoludica degli ultimi dieci anni quindi se devo pensare più razionalmente più obiettivamente Tears of the Kingdom è il gioco dell'anno in quanto gioco più importante non ho giocato Baldur's Gate 3 vabbè pace però dal mio punto di vista Tears of the Kingdom è un gioco generazionale importantissimo per la Nintendo di oggi importantissimo per lo stato del brand di The Legend of Zelda è importantissimo per quello che è tutto lo scenario videoludico che ha visto negli ultimi dieci quindici anni nascere crescere e saturare la scena degli open world e forse questo è veramente il punto finale su una stagione del gaming che da questo momento in poi dovrà cambiare radicalmente ma già sta cambiando tantissimo quindi rimane comunque un forse addirittura un qualcosa che è al di fuori della competizione per il game of the year tears of the kingdom è un qualcosa di trascendentale che possiamo mettere a parte Alan Wake 2 è invece tutto quello che io adoro di Remedy Games puntato all'ennesima potenza e un'esperienza di quelle che ti cambia in un certo senso la vita ora lo sto esagerando ma perché io parlo proprio da appassionato dovete capire ve l'ho detto tantissime volte che con i titoli Remedy io ci sono proprio cresciuto e per me le produzioni di Sam Lake e Sochi sono le ultime ormai o tra le pochissime che presentano una firma autoriale che riconosci immediatamente io sono impazzito per Control e impazzisco ancora di più per questo Alan Wake 2 ma per dieci motivi diecimila diecimila motivi diversi che trascendono proprio il videogioco perché dietro ci sta tutta una concezione di cinema impressionante dietro ci sta un modo di riscrivere le dinamiche dell'action in terza persona e trasformarlo in un survival horror e confezionare uno di confezionando uno dei survival horror più paurosi degli ultimi anni ma non è quella di Alan Wake 2 non è neanche paura quella di Alan Wake 2 è tensione che ti fa stare una merda dall'inizio alla fine ho giocato un gioco e mi ha lasciato tisissimo in un modo proprio brutto ma poi allo stesso tempo è un grandissimo ragionamento su quello che è il processo creativo su quello che è proprio il dolore che prova una qualsiasi persona nel confrontarsi con la sua creatività c'è tutta questa allegoria della creatività come pozzo nero come momento buio dell'esistenza che sento tantissimo mia e allo stesso tempo Alan Wake 2 ma tutte le produzioni di Remedy soprattutto Alan Wake 2 che lavora tantissimo sulla meta narrativa meta testualità sul mettersi in gioco ma sin dalle prime opere vedete questo qua è un discorso ampissimo però è un è un prodotto che gioca tantissimo sulla riconoscibilità dei suoi autori e in continuazione non fa altro che ripeterti che all'interno che tutta l'opera è fatta dal cuore stesso degli autori dalla loro cultura dal loro essere finlandesi dal loro essere appassionati di un certo tipo di cultura pop nordamericana di io ce lo vedo proprio tutta la difficoltà che ci sono stati in questi 13 anni per per creare un titolo del genere ed è un'opera così imperfetta molto problematica dal ritmo che farà schifo a tantissime persone che però è vera è pura è proprio è contraddittoria e ti mette di fronte a tantissimi livelli di lettura può essere goduta come sia come un'opera sci-fi sia come un grandissimo affresco dove c'è tutto questo connected universe che unisce varie narrative che si sono srotolate nel corso degli anni può essere visto anche come una sorta di romanzo autobiografico su quello che è il percorso di Sam Lake all'interno dell'industria ci sono così tante cose ma tutte mi rimandano sempre all'impressione che dietro questa opera ci sia una chiara visione autoriale e un chiaro tratto distintivo che io queste cose nei videogiochi non le trovo da nessun'altra parte se non in quei nomi che conoscono tutti li vedi in Kojima li vedi in Yoko Taro li vedi non lo so sono veramente pochissimi i nomi che lasciano un solco del genere ed è assurdo che le produzioni Remedy in un modo o nell'altro ribaltino sempre quella che è l'industria e lo faccia in un modo quasi stealth cioè dal nulla comunque si tratta di un team ormai medio piccolo che comunque riesce con le sue produzioni a mettere in crisi quelle che sono poi anche le produzioni AAA parlo anche banalmente a livello tecnico a livello grafico i ragazzi Remedy sono sempre stati dieci passi avanti rispetto a tutta la concorrenza pur non avendo a disposizione i mezzi di studi AAA questi con il North Light Engine riescono a farti qualcosa che ridefinisce proprio il concetto di qualità grafica pure questa trovo una cosa estremamente affascinante e niente pensate che io vorrei tanto trovare un ospite con cui parlare del gioco per bene anche a qualcuno a cui non è piaciuto infatti adesso proverò insomma a bazzicare un po' a fare un po' di indagini su anche altri content creator perché secondo me è un gioco su cui bisogna confrontarsi assolutamente ci sono almeno due momenti tra i più potenti mai visti all'interno proprio della narrazione videoludica ci sono state due cose che mi hanno spaccato in due completamente una mi ha proprio fatto pensare a David Lynch e alla nuova serie insomma l'ultima serie di Twin Peaks e l'altro invece penso sia uno dei momenti genuinamente più terrificanti che io abbia visto all'interno di un videogioco e già solo queste due cose basterebbero per dire è il capolavoro che ho sempre aspettato probabilmente è il gioco più bello di Remedy di sempre sì mi sbilancio e credo a questo punto sia diventato il mio game of the year però appunto vorrei parlarne con qualcuno che magari è anche un'opinione diversa dalla mia e cercherò cercherò insomma di trovare un punto di vista su cui confrontarmi quello che vi posso dire è che se ne avete la possibilità se ne avete soprattutto la voglia e se avete la voglia di scontrarvi con un titolo molto difficile un titolo che richiede tanta attenzione richiede tanta pazienza e richiede anche forse una conoscenza pregressa di quello che è successo ma neanche troppo richiede più che altro l'esserci con la testa e l'accettare un tipo di narrativa che non necessariamente si risolve in un qualcosa di lineare e razionale ho letto una cosa bellissima cioè stavo vedendo un video più che altro che analizzava la trama e diceva sono bellissime le trame di Remedy in particolare la parte che riguarda la storyline di Alan Wake perché questo gioco si divide in due storyline principali che si intersegano a vicenda che sono appunto quella di Alan Wake e quella di Saga Anderson e quella di Alan Wake è ambientata in una sorta di luogo metafisico dove il protagonista è intrappolato nella sua stessa creatività e la narrativa è completamente fuori di testa ci sono sembra quasi di stare all'interno di un sogno e quindi non c'è nulla di razionale perché tutto segue la dream logic c'è la logica del sogno e molte cose le devi prendere per boh ok è così perché i sogni i sogni no quando li sei dentro al sogno tutto funziona tutto ha un senso c'è una una causalità tra tra i vari avvenimenti però poi quando ti risvegli e ci pensi ti rendi conto che in realtà nulla torna eppure ti rimane la sensazione che tutto quello che hai sperimentato un senso ce l'avessi fino a quando non ti sei svegliato e quindi passi tutta la giornata a cercare di riprendere quel senso ecco la narrativa di remedi è proprio questa è un tipo di narrativa recitavano in questo video che hai sempre la sensazione che ti stia portando da qualche parte non è mai un qualcosa di fine a se stesso ma c'è sempre una progressione narrativa ti fa arrivare da qualche parte soltanto che poi non capisci dove sei ti spiazza completamente tu puoi seguirla con la massima attenzione ma poi alla fine qualcosa te la perdi c'è qualcosa che non torna o comunque c'è un altro livello che si aggiunge e ti stordisce completamente ma allo stesso tempo non è una narrativa paracula che fa appunto queste inversioni di marcia solo per destabilizzarti e non far tornare nulla anche questo è un discorso abbastanza astratto ma se lo avete giocato e se appunto iniziate a entrare in questo modo di raccontare una storia capirete perfettamente che sono riusciti a ricreare molto bene la stessa sensazione che si ha nel vivere un sogno lucido o un incubo lucido in questo caso straconsigliato magari non su playstation 5 perché ci sono ancora parecchi bug la modalità qualità fa schifo va tipo a 20 frame al secondo fissi un sacco di scatti e parlo io che ho giocato a control su ps4 base che c'erano dei momenti bellissimi andava a 2 frame al secondo proprio uno schifo totale però io non ci posso fare nulla come racconta le storie Remedy come riescono a fare intersecare musica cinema videogiochi come lo fanno loro non lo fa nessun altro e Alan Wake 2 è un fottuto capolavoro e dovreste giocarlo tutti quanti mettendo però in conto la probabilità che probabilmente non vi piacerà bisogna avere sempre aspettative basse per poi non rimanere delusi e a proposito di aspettative basse e mi sto giocando in questi in questi giorni penso di aver superato ampiamente metà il remake di Super Mario RPG lo sto adorando ma proprio tantissimo perché Alizio mi aveva lasciato abbastanza scettico quando lo presentarono la prima volta perché lo stile grafico non mi convinceva adesso invece giocandolo è qualcosa di pazzesco peccato solo per dei cali di framerate che in certe scene particolari si notano non sono così frequenti però si notano però devo dire che a parte queste imprecisioni che comunque non sono gravi come erano gravi quelle di Link's Awakening la proprio i framerate ogni tanto droppavano malissimo ed era proprio brutto da vedere e soprattutto questo lo ripeto sempre però vabbè noi anzianotti siamo un po' dei dischi rotti lo stile grafico Link's Awakening era molto cute era molto carino però secondo me non c'entrava niente col gioco questa reimmaginazione estetica di quella grafica simil plastilina di Super Mario RPG invece ci sta molto di più ed è molto più contestuale ma la cosa che adoro di più in assoluto è che hanno messo i filmati in computer grafica tra l'altro renderizzati a 60 fps quindi sono fluidissimi e sono delle animazioni pazzesche bellissime ma c'è questa cosa che in molti l'hanno considerato un difetto invece secondo me è una genialata che praticamente i filmati sono molto carini sono fatti molto bene poi durano pochissimo sono giusto come delle scenette introduttive o dei piccoli stacchi fatti per far proseguire la narrativa che ti danno giusto un po' l'impressione di quello che sta succedendo però hanno fatto questa scelta artistica di fare delle animazioni bellissime anche molto fluide e realistiche tra molte virgolette però non hanno doppiato il gioco ma non ci sono praticamente manco i suoni è molto vuoto rimane la la musica di sottofondo e poi vedi questi pupazzi che si muovono interagiscono fanno le loro cose e muovono anche la bocca insomma perché sono molto espressivi ma nessuno parla nessuno emette suoni nessuno emette rumori e c'è chi l'ha visto un po' come una una cosa strana che non funziona molto bene invece io appena l'ho visto mi ha ricordato ma proprio mi ha dato la stessa sensazione che mi davano i i full motion video dei dei final fantasy 7 8 e 9 che sono quelli con cui poi mi sono proprio formato e sono cresciuto giocando i grpg che c'è c'è quella quella proprio sconnessione totale tra la bellezza grafica oddio dei filmati in computer grafica pazzeschi sembrano veri se poi li rivedi oggi vabbè sono quelli che sono però erano muti erano muti ma tu lo dai per scontato che era impossibile farli parlare che ogni mi ricordo che in final fantasy 7 forse uno degli ultimi filmati aveva dei sottotitoli ma se no erano delle visualizzazioni così potenti delle delle grafiche così coinvolgenti e così realistiche che non c'era neanche bisogno di farle parlare ovviamente era un problema di budget era un problema di supporti c'erano 10.000 problemi dietro però avevano una potenza evocativa tale che parlavano da soli e quello che poi era una mancanza un limite dell'epoca diventava anche un po' una una potenza e poi sempre meglio essere muti che poi ritrovarsi quei doppiaggi dei primi anni 2000 come poterlo essere quelli di final fantasy ad esempio con quelle scene grottesche tipo la risata di Tidus vabbè insomma sappiamo benissimo di cosa stiamo parlando alle volte forse era lasciare tutto al non detto era molto meglio che cercare di fare i film dare delle produzioni cinematografiche quando poi non si avviano né le competenze né i mezzi tecnici per far sì che non uscissero fuori delle cose quanto meno decenti ma sono problemi che ci portiamo appresso ancora oggi quindi insomma figuratevi nei primi anni 2000 e quindi questa scelta di rendere tutto molto distaccato tutto molto proprio non lo so semplice e quasi fiabbiesco sognante secondo me ci sta bene ovvio avrebbero potuto doppiarli ma poi ci sarebbero stati altri diecimila problemi devi dare la voce a tutti i personaggi Mario comunque non devi far parlare ma chi deve una voce a Gino insomma diventa diventa un casino proprio quindi chiaramente una scelta di budget una scelta produttiva che però secondo me ci sta per il resto giocare questi giochi a me mette proprio allegria e secondo me bisognerebbe fare un po' la riflessione su quello che ci aspettiamo da remake perché in questa generazione si è creato un casino assurdo quando si parla di remake remaster anzi togliendo pure le remaster anche solo parlando di remake si sovrappongono troppe cose e troppe operazioni diverse tra di loro e non ci si secondo me non sia mai chiaro quello che è aspettarsi da un titolo che viene venduto come un remake perché appunto Resident Evil 4 remake è praticamente un nuovo gioco è proprio un'altra cosa che però ricorda l'originale ma pure Final Fantasy 7 remake è così tanto un remake che la parte 2 non sarà manco più un remake ma sarà un rebirth sarà una rinascita mentre ci sono operazioni molto più conservative che però ti modificano soltanto l'aspetto grafico del titolo e questo Super Mario RPG remake è un po' una via di mezzo perché si hanno praticamente aggiornato la veste grafica e lasciato tutto invariato però il combat system ha visto numerosi miglioramenti ci sono tanti aggiustamenti all'esperienza ad esempio il fatto che sia stato inserito il sistema di combo il fatto che abbiano inserito anche le finisher gli attacchi di gruppo sono tutte cose che anche i filmati se vogliamo però quello è più una cosa narrativa a livello di gameplay modificano profondamente l'esperienza la modernizzano però insomma non la non la intaccano più di tanto e alla fine si ha sempre l'impressione di giocare proprio lo stesso identico gioco il che è un bene perché comunque si tiene quello che funzionava e si elimina tutto il di più che magari dava no non il di più si elimina tutte quelle storture quelle rigidità che erano dettate dall'inconsapevolezza dell'epoca e che oggi insomma possono essere tranquillamente risolte ecco forse io l'unica cosa che avrei inserito a questo punto visto che hanno fatto un bel po' di passi in avanti nel combat system senza stravolgerlo io avrei inserito comunque la cosa del quando per esempio riprendendola proprio da serie di Mario e Luigi gli attacchi preventivi nel senso vedo il nemico sulla mappa se ci salto sopra allora inizio con un vantaggio lo scontro se invece è il nemico a venirmi addosso mentre sono girato non riesco a reagire in tempo a quel punto è il nemico che ha un vantaggio sulla mia sull'inizio della battaglia questo non so perché però lo sento un po' come una mancanza il fatto che non influisca minimamente il posizionamento di quando ci si tocca col nemico e mi sembra veramente un passo indietro che a questo punto potevano anche implementarlo perché insomma ci poteva stare e avrebbe modernizzato ancora di più un sistema che poi hanno modernizzato tipo nel 99% degli aspetti quindi boh non lo so avrebbero potuto farlo perché no? ah maietta nintendo comunque super mario rpg chiude una stagione pazzesca cioè nell'arco di un mese abbiamo avuto un nuovo super mario 2d da paura e questo remake che esce fuori dal nulla è stato richiesto per non lo so 50 anni sto esagerando ovviamente e e ce lo danno così ed è pure venuto benissimo è fatto benissimo è pazzesco cioè non solo questa qua è stata un'annata di una qualità molto elevata ben sopra gli standard degli anni scorsi e non parlo solo di nintendo ma in generale di un po' tutti quanti i publisher ma in più c'è stata questa parte finale che boh io ancora devo razionalizzare ma sul serio super mario wonder 20 ottobre super mario rpg remake 17 novembre già solo questi due nomi potrebbero fare la grandezza di un anno intero di line up e sono usciti a meno di un mese di distanza l'uno dall'altro io più di così non so non so cosa pretendere proprio è stato proprio un anno un bell'anno ricco di soddisfazioni e ricco di di belle di belle esperienze e di riflessioni da fare su questa industria che comunque regala ancora tantissime soddisfazioni e e penso che ovviamente non può essere questo remake uno dei migliori giochi dell'anno questo no però entra tranquillamente nella nella top 10 anche perché è proprio quel tipo di gioco che ormai manca ed è un jrpg almeno manca nelle nelle grandi produzioni un jrpg che non si prende troppo sul serio che è divertente una cosa che nelle produzioni intendo adesso ricomincia ad essere presente ma il prendersi in giro il ridicolizzare anche un po' i personaggi proporre personaggi diversi da quelli che sono sempre le solite quattro facce sono tutte cose che si erano abbandonate e invece questo gioco reintroduce tutto quello che si era perso negli ultimi decenni all'interno di un solo titolo e non è una cosa da sottovalutare il fatto che nintendo abbia deciso di ripescare questa ip questo titolo storico mettendosi a mezzi anche con square enix quindi neanche a dire che è stata una cosa facile da mettere in piedi per quanto riguarda i diritti d'autore eccetera eccetera ma il fatto che sia stata fatta adesso quando poi ci troviamo sostanzialmente in un momento di scavallamento generazionale che arriverà insomma a breve a me fa ben sperare per il futuro di quello che che è proprio la visione di nintendo quando deve pensare alle sue ip quando deve pensare come gestire i suoi grandi nomi e soprattutto mi dà l'idea di una nintendo che magari non sperimenterà tanto con il concept della nuova console ma continuerà a sperimentare tanto proprio con i giochi che ci verranno fatti sopra e spero che sempre più ip vengano ripescate tra l'altro oppure questo mi fa proprio volare continuano a spammare tantissimo le cose su pikmin e pikmin 4 i profili social di nintendo quindi cioè ci credono proprio che queste queste vacanze non siano fatte solo da super mario e super mario rpg ma ci siano anche altri titoli come ad esempio pikmin il che mi rende felicissimo quindi questa è un po' una mia breve recensione al volo anche di super mario rpg remake non l'ho finito ma se cercate un rpg proprio all'acqua di rose ma non perché è eccessivamente banale o stupido ma proprio perché non vi impegna mentalmente più di tanto ma comunque è un gioco avvincente e soprattutto divertente giocatelo assolutamente io ve lo straconsiglio e per me è un po' non dico una sorpresa perché il nome è garanzia di qualità ma più che altro è una sorpresa giocarlo oggi così senza senza praticamente nessun preavviso è una cosa è una cosa fantastica provatelo giocatelo e poi fatemi sapere che ne pensate detto questo si è fatto tardissimo io ho parlato abbastanza potevo fare di peggio potevo fare di meglio però per questa volta ve lo dovete fare andare bene anche perché ormai è notte inoltrata e io vi ringrazio tantissimo per il supporto in questo periodo soprattutto a chi ha deciso di abbonarsi al porion o anche al a youtube ci vediamo alla games week se ci sarete altrimenti ci vediamo col prossimo video che arriverà quando arriverà ma probabilmente la prossima settimana grazie mille mi raccomando fate i bravi riposatevi dormendo podcast tranquilli ma soprattutto nerdate duro io sono il poro alan michele remake ciao ehi 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 fermo se questo tipo di video ti piace prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul porion il patreon dei poracci con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto come retroscena anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa a Ciao